Buongiorno, buon sabato mattina, benvenuti alla rassegna stampa di Fano TV, cari telespettatori. Questa mattina però l'apriamo in modo un po' particolare perché prima di affrontare le nostre solite consuetudini, meteo, santo del giorno e poi i giornali, vi annuncio che avremo un'apertura particolare appunto perché ci collegheremo con Orciano dove questa notte è praticamente avvenuto un fatto estremamente grave, si è aperta una voragine che ha diviso letteralmente in due, una strada. In questo momento vedete le immagini registrate questa notte da Marco Ferri che in questo momento si trova proprio ai margini della voragine. Adesso stiamo vedendo appunto le immagini proprio delle prime ore del primo intervento dei Vigili del Fuoco, ci sono stati momenti di panico anche per chi transitava in quel momento con l'auto, avremo anche la testimonianza di chi ha vissuto con i propri occhi e con la propria paura quei momenti. Eccoci ritornati in studio, io vorrei vedere se la regia me lo manda in collegamento Marco Ferri, ecco che lo trovo lì in postazione in questo momento. Allora Marco buongiorno innanzitutto, tu hai vissuto proprio i primi momenti della frana, raccontaci tutto e dici qual è lo stato attuale della frana. Sì, buongiorno a tutti, qui a Orciano il paese si sta svegliando lentamente tra incredulità e rabbia, la voce del crollo è corsa di bocca in bocca anche durante la notte, qualcuno già dalle prime ore di questa mattina, noi siamo qui dalle sei e mezzo circa, ha voluto vedere con i propri occhi quello che aveva sentito dire durante la notte e la reazione di tutti è di grande stupore perché in effetti con la luce del sole, con la prima luce dell'alba si è visto in maniera eloquente le dimensioni di questa frana, praticamente la strada, un tratto di strada qui di Viale Kennedy non c'è più ed è un tratto importante, una strada importante Viale Kennedy qui a Orciano perché è una delle strade principali, qui passano sia i mezzi leggeri, quindi le automobili, ma passavano perlomeno anche i mezzi pesanti come la Corriera, come il Pullman, questa mattina per esempio i primi disagi sono stati quelli causati agli studenti, gli studenti che da Orciano per esempio vanno all'Itis di Urbino, la Corriera qui non è ovviamente passata, molti studenti sono rimasti a piedi, qualcuno ha pensato bene di andare a Mondavio a prendere il Pullman lì, chi lo ha fatto è salito, tutti gli altri, quelli che si sono presentati davanti alla banca di Orciano pensando che passasse almeno lì davanti sono rimasti invece a piedi, questo per raccontarvi semplicemente quelli che sono i disagi che si stanno già creando alle prime luci dell'alba, poi naturalmente manca l'acqua, manca l'acqua in molte abitazioni del paese, qui dietro alle mie spalle hanno iniziato a lavorare da circa una mezz'ora i tecnici di Marche Multiservizi che stanno cercando di ripristinare perlomeno l'acqua corrente e sono le infiltrazioni, le infiltrazioni d'acqua quelle che in questo momento preoccupano di più, infiltrazioni d'acqua delle quali si è parlato anche ieri sera subito dopo questo crollo perché non è l'acqua piovana per molti la causa principale di questo crollo, bensì le infiltrazioni di cui si parla qui in paese da un paio d'anni, ci sono molte testimonianze, ci sono anche documenti che sono arrivati nei tavoli degli uffici comunali, degli uffici tecnici del Comune, denunce se ne vogliamo anche di queste infiltrazioni, come ci ha raccontato ieri sera il proprietario di un'abitazione che è stata lambita dalla Frana, un residente che dal nord Italia è venuto ad abitare qui sotto, la Frana si è appoggiata, ha finito la corsa proprio vicino alla sua casa e ieri è salito arrabbiato e si è arrabbiato sia con il sindaco che con gli altri del Comune. Questo per raccontarvi un po' quello che è successo qui a Dorciano nelle ultime ore, ma adesso io vi propongo, vi proporrei la testimonianza invece di una ragazza, si chiama Martina, ieri sera intorno alle 20 e 10 minuti stava transitando qui con la sua auto, una Opel Corsa, quando a un certo punto, come sentirete, si è accorta che qualcosa non andava e ha avuto coraggio, tanto coraggio, perché sentite che cosa ha fatto. Pochi istanti prima, raccontami quello che è successo, tu eri in macchina su questa strada? Io ero in macchina, tornavo verso casa e mi sono trovata ad un certo punto in mezzo alla carreggiata, alla strada che percorrevo, mi sono vista quel palo della luce e la parte della strada dove ero diretta che scendeva piano piano, dopodiché ho detto o passo velocemente o comunque mi fermo, dopo ho detto sarà meglio che mi fermo perché altrimenti mi sono fermata, la citazione era tanta logicamente, è solo che non riuscivo, non sapevo cosa fare se fermare le macchine o chiamare subito i soccorsi. Ho chiamato il 112 e nel frattempo cominciava la strada a mangiarsela pian piano, anche dalla parte dove avevo la macchina, di corsa ho spostato la macchina, indietreggiavo perché avevo paura che mi portava giù e dopo niente, ho cercato di fermare, la paura più grande è stata fermare la macchina che veniva dall'altra direzione, perché comunque avendo, era caduta la careggiata non riuscivo a far nulla. Di qua comunque c'era un furgone dietro di me che comunque mi ha aiutato a fermare il traffico, mentre dall'altra parte per poco una macchina è passata, a un certo punto si è fermata e io gli ho detto di indietreggiare velocemente perché comunque si mangiava sempre più strada la frana, ha indietreggiato tutto a un tratto e proprio in quell'istante è caduta l'altra parte della strada. Davvero c'è da dire che per fortuna non è successo nulla di grave, qui a due passi da me forse vedete il cartello, c'è l'insegna di una pizzeria per esempio e ieri sera il crollo è avvenuto dicevamo intorno alle 20 e 10, alle 20 e 30 qui passa l'ultima corsa dell'autobus che va a Barchi, così come gli avventori della pizzeria ancora non erano arrivati, lì solitamente ci si parcheggia le automobili, insomma è andata davvero tutto quanto molto bene perché poteva davvero essere una tragedia, perché ripeto questa via Kennedy qui a Orciano è comunque una delle strade più importanti del paese, la strada principale, se fosse accaduto in un altro orario probabilmente sarebbe stata davvero una tragedia. Molte in questo momento diverse anche le evacuazioni, in particolare una abitazione che sta proprio sopra la frana, il proprietario naturalmente ha dormito fuori casa così come hanno dormito fuori casa anche molte altre famiglie che sono qui adiacenti alla frana, il crollo, adesso si tratterà di capire nella giornata di oggi la stabilità di tutta l'area, va detto anche che sono chiuse almeno per il momento, abbiamo visto dei cartelli affissi sulle porte della strada parallela a questa qui a Orciano, tutte le abitazioni sono state sgomberate, c'è anche un ufficio postale che è stato chiuso e che probabilmente per la giornata di oggi rimarrà chiuso, un altro ristorante che sta dall'altra parte ma che è al retro proprio qui su questa strada. Insomma Orciano è un paese ferito, è un paese che oggi dovrà cominciare a fare i conti e abbiamo chiesto ieri a caldo al sindaco del paese un po' le impressioni, a caldo sentiamole. Abbiamo diciamo la tutta la larghezza di una strada per una lunghezza di circa 20 metri che è completamente, si è aperto una voragine e ha ceduto improvvisamente e quindi effettivamente la scena che si presenta è una scena veramente raccapricciante. Questa tra l'altro è una strada viabilità importante perché comunque è una strada provinciale che collega sul crinale un po' tutti i paesi dell'entroterra, Barchi, San Giorgio, Orciano, Piagge, quindi è una strada anche importante per la viabilità. Adesso stiamo studiando un percorso alternativo per spostare all'interno del centro abitato la viabilità leggera, quindi le autovetture e invece i mezzi pesanti di spostarli su una viabilità alternativa probabilmente da Mondavio, San Michele eccetera perché al momento non c'è altra possibilità, altra soluzione che ci si presenti insomma. E come pare che questa frana sia andata giù fino a un'altra stradina vicino ad una casa? Diciamo il cedimento ha fatto scivolare il terreno mosso fino a valle perché chiaramente qui siamo in cima ad un pendio quindi il terreno franato è scivolato giù fino a ridosso di un'abitazione diciamo a valle. Qui a Dorciano c'è il sole questa mattina quindi si potrà lavorare in condizioni buone però ecco nei prossimi giorni arriverà di nuovo la pioggia e quindi bisognerà vedere insomma adesso cercare di capire che cosa fare di questa grossa voragine. Qualcuno guardando anche qua attorno come per esempio il paese di Cartoceto e anche altri posti dove ci sono stati crolli importanti pensa ai tempi, ai tempi per risistemare tutto quanto e quando si pensa ai tempi c'è rassegnazione. Speriamo che a Orciano le cose vadano in modo diverso e che i tempi non siano biblici come in altri posti anche qua vicini. E da qui per il momento è tutto, a voi la linea. Bene, grazie Marco Ferri, grazie Marco per questo resoconto così dettagliato è veramente impressionante, impressionante anche per le dimensioni di questa frana avete sentito dalle parole del sindaco le dimensioni veramente un baratro si è aperto e ha tagliato ovviamente in due la viabilità di questa strada fortunatamente come avete sentito dalle parole di Marco Ferri non c'è stata nessuna conseguenza fisica per nessuno e probabilmente anche gli occupanti di quella vettura che veniva in senso contrario a quella della ragazza deve molto alla prontezza di spirito e al sangue freddo di questa ragazza che ha evitato grazie al suo intervento come abbiamo sentito dalle sue parole raccolte poco dopo da Marco insomma il peggio ha evitato il peggio. Bene, naturalmente questa sera nel Tg Occhio alla Notizia avrete ulteriori ragguagli perché noi siamo lì, rimarremo lì e vedremo un po', seguiremo un po' come è l'evoluzione e ulteriori ragguagli su questa frana che si è verificata appunto ieri notte vi ricordo a Orciano e quindi anche il nostro portale sarà attivissimo se volete avere aggiornamenti in tempo reale consultate Occhio alla Notizia.it. Bene, noi detto questo riprendiamo la nostra consueta rassegna stampa del sabato mattina e partiamo dal santo del giorno oggi sabato 3 ottobre San Gerardo abate il sole è sorto alle 7.07 ormai e tramonterà alle 18.47 partiamo con le previsioni del tempo andiamo un po' a sprombattuto perché il tempo naturalmente è oltre quello solito le previsioni per oggi è cielo poco nuvoloso con qualche addensamento più consistente di ridosso dei rilievi temperature in aumento le precipitazioni non si escludono brevi e precipitazioni isolate però sui versanti occidentali della catena pennilica qui nella grafica non è riportata però insomma c'è questa possibilità vedete compare la simbologia della nebbia e questa mattina vi posso assicurare che c'era nel venire qui e quindi prestate anche voi attenzione se vi uovete nelle prime ore del mattino a questa eventualità domani domenica ecco cambia un po' il quadro c'è pioggia presente anche come simbologia sulla cartografia temperature però sono stazionare il cielo è nuvoloso a tratti anche molto nuvoloso vedete piogge sulla costa e all'interno vediamo com'è l'evoluzione per lunedì e anche qui ricompare la simbologia della pioggia cielo prevalentemente nuvoloso precipitazioni non si escludono deboli precipitazioni sparse temperature in diminuzione partiamo con i giornali e quindi vedete purtroppo sul fronte della frana oggi sarà una giornata di pausa però da domenica riprenderanno le piogge questo oltre a complicare la vita a quanti lavoreranno in quel sito sicuramente non farà dormire sonni tranquilli alle persone che ci abitano lì e anche anche altre bene partiamo con i giornali partiamo con i giornali apriamo con il Corriere Adriatico di Pesaro a Pesaro nasce il cantiere Rossini si riparte con la canteristica un comparto ampiamente ampiamente flagellato dalla crisi negli ultimi negli ultimi anni e si presenta appunto la società Lisa Group per avviare il refighting di grandi yacht raccolti capitali stranieri quindi si avvia una cantieristica di manutenzione per grossi yacht e quindi nasce il cantiere Rossini da Fano la pagina sempre del Corriere Adriatico si parla di welfare di sostegno alle fasce più deboli disponibili nuovi fondi anticrisi grazie al bilancio del comune quello di Asia Spa è un contributo della fondazione Carifano e dal bilancio anche della provincia sono arrivati 277 mila euro per affitti buone spese e bollette per i meno abbienti vedete nella foto il sindaco Massimo Seri e l'assessore dei servizi sociali Marina Barniesi e poi il porto anche questa è una questione calda sul fronte fanese il dragaggio deve essere un punto di partenza parla Comarpesca che ringrazia il sindaco la regione e anche il vescovo ma sollecita un altro intervento definitivo per liberare il porto di Fano dalla morsa del fango che impedisce una fruizione ideale e ottimale non solo per i pescherecci ma anche per il diportismo del porto di Fano ancora dalle pagine del Corriere Adriatico il furto al negozio di articoli sportivi ladri messi in fuga dal fumo un antifurto estremamente efficace a questo punto viene da dire perché insomma è stato inondato oltre che da un rumore assordante e la zona del negozio da un fumo da una cortina fumogena che ha impedito la visuale ai ladri e sono stati messi in fuga hanno desistito dal loro intento ladresco grazie a questo espediente e quindi pare che questa tipologia di antifurto funzioni spaccata la vetrina si sono introdotte all'interno ma poi non hanno potuto compiere fino in fondo il loro intendimento di spalla la settimana del dialetto a favore del dialetto questa lingua così importante per le genti insomma in Italia ci sono tantissimi dialetti e il dialetto è la matrice storica di una comunità e quindi insomma a favore del dialetto vedete l'attore di Vernacolo Nicola Anselmi una settimana si parlerà dialetto con tante iniziativa si parte oggi alle 17.30 con Ermanno Simoncelli alla Memoteca e poi vaccinazioni timore per il calo vaccinazioni in calo parla Massimo Agostini in questo articolo in un convegno c'è un concreto rischio di ritorno di malattie se si continua a vaccinarsi poco cambiamo testata andiamo nel messaggero rinasce il cantiere navale anche qui in primo piano questa importante ripartenza si chiamerà Rossini ma appartiene a imprenditori straniere in prevalenza inglesi bene qualunque sia la paternità di questa iniziativa poco importa insomma importa che tutto il comparto e tutto l'indotto ripartano servirà per ristrutturare gli yacht l'obiettivo e creare ecco questo è l'importante al di là di chi ci sia 200 nuovi posti di lavoro che sicuramente non sono pochi sanità una pioggia di ricorsi l'autunno caldo dei manager vediamo di che cosa si tratta eccolo qua l'articolo manager sanità pioggia di ricorsi ricorsi di ex dirigenti che hanno fatto ricorso al TAR o in altre sedi stroppa di Ancona chiede il reintegro e Zucatelli dell'irca contesta la recessione anticipata e poi invece per Marche Nord quindi la zona nostra una chiusura di rapporto più in discesa perché l'addio di Aldo Ricci è alle ore contate però si apre un nuovo posto nel servizio sanitario marchigiano probabilmente nel settore della longevità e quindi insomma è un addio più dolce rispetto a quelli contestati invece dai suoi colleghi nuovi poveri più pesaresi che stranieri alla Caritas la banca di Pesaro dona 10.000 euro e Don Marco dice ci permette di dare un minimo di speranza a chi è in difficoltà oltre 100 pasti al giorno e vestiti ma la vera emergenza adesso è quella abitativa tra sfratti e affitti non pagati pagina del messaggero di Fano il carnevale diventerà jazz e quindi si concretizza questa che era un'ipotesi ventilata nei mesi passati un binomio sicuramente vincente che farà contenti per buona pace a molte persone perché insomma il duelismo carnevale estivo sì carnevale estivo no jazz ha avuto più soldi insomma ecco c'è stata questa guerra fratricidata iniziative fanesi e adesso insomma il carnevale diventerà jazz e quindi si sono uniti gli intenti ovvero sia fare del bene alla propria città e rilanciare questo è l'intento l'estate fanese il sindaco promette entro due settimane pronto il calendario delle manifestazioni così ci sarà tutto il tempo per programmare la promozione del territorio e si punta addirittura adesso spariamo alto un gemellaggio con New Orleans che insomma del jazz sicuramente ne sa ma rimane l'incognita della Fano dei Cesari che vedremo quale sarà il destino che avrà ultima ultima testata il resto del Carlino partiamo da Fano per la pagina del Carlino 11 ultras nei guai alla sbarra per gli scontri alla partita persa contro il Venezia qui in alto c'è il ripercorso della vicenda cosa è avvenuto quando e come il processo i tifosi rispondono per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni episodi contestati botte a un tifoso veneto lancio di oggetti contro la polizia oltre che di un petardo e ancora dal resto del Carlino si ripete un altro episodio di senza biglietto attimi di paura per l'autista del mezzo che è una donna accusato un senegalese senza il biglietto blocca la corsa dell'autobus che cosa ha fatto l'autista non lo ha fatto salire sul bus perché non aveva fatto il biglietto e così il senegalese che ogni mattina chiede l'elemosina davanti all'aio di Calcinelli ha aspettato che l'autobus tornasse indietro e si è buttato in mezzo alla strada per fermarlo e quindi questa è stata la sua iniziativa ancora l'ultima pagina che vi propongo dall'interno Fano e Valcesano insomma è un weekend ricco di iniziative autunnali una fra tutte insomma a Pergola si apre la ventesima edizione della fiera nazionale del bianco pregiato il re tartuffo unisce gusto e cultura ricchissimo il programma della manifestazione il pacchetto l'oro alla portata di tutti con 20 euro si visitano i bronzi e si mangia al ristorante in piazza per gli amanti di questo prodotto della terra così ricercato e così amato pagina del resto del Carlino di Pesaro ristorante in spiaggia il turismo è insomma alla regolamentazione nuovo piano per le attività balneari confcommercio li voleva chiusi entro le 20 e 30 invece rimarranno aperti fino a mezzanotte piano e polemiche tutti i bagnini fino a forse 6 ore possono chiedere di sfornare pasti caldi la pagina di Pesaro ulteriore il porto rinasce questa è la buona notizia dei quotidiani di oggi sono in arrivo i grandi yacht per fine anno la struttura sarà operativa quindi insomma nel 2016 a gennaio ci sarà appunto lo start presentazione ufficiale in comune per questo nuovo rilancio dell'economia vi lascio con un'ultima pagina l'ho lasciata volutamente per ultima non ho letto insomma gli articoli nelle altre testate perché volevo lasciarvi con la pagina del resto del Carlino che spero di riuscire a leggere fino in fondo vi ho chiuso gli occhi su quel divano se ne è andato leggero come nella vita è andato via un collega un amico si chiamava Paolo Angeletti che è morto nella notte era caporedattore del resto del Carlino è stato trovato alle ore 13 dai colleghi sul suo divano di casa qui in questo articolo di Luigi Luminati ripercorsa tutta la storia dagli inizi del 1983 nel Corriere Adriatico la cultura la musica le sue passioni il suo scrivere sul Carlino e anche oltre e quindi se ne è andato se ne è andato a casa sua sul divano di casa e quindi il cordoglio mio personale e di fano tv alla famiglia e ai colleghi del resto del Carlino con Paolo abbiamo diviso anche momenti personali avevamo una passione quella del golf che ci univa quindi questa l'ho lasciata per ultima ciao Paolo ciao 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 Grazie a tutti.